Io sono Raffaella Rossi e ho il piacere di presentare questo secondo incontro in cui insieme al Politecnico di Torino cerchiamo di leggere la realtà attraverso gli open data. Per questa sera ringrazio il dottor Giovanni De Santi e il professore Ettore Bonpard, spero di avere una pronuncia corretta. Per chi di voi c'era già al primo incontro, la scorsa volta abbiamo parlato dell'Ucraina, abbiamo attraversato un po' il territorio, abbiamo visto le risorse che caratterizzano questa terra e abbiamo cercato di capire quello che sta accadendo. Questa sera in realtà ci spostiamo, se vogliamo, l'argomento è un po' diverso perché questa sera parliamo di crisi energetica globale e nuovo equilibrio mondiale, che è un tema in realtà se vogliamo abbastanza anche vicino, che tocca in più punti quella che è la crisi dell'Ucraina in questo momento. L'incontro sarà diviso in due parti, avremo un primo momento in cui il professor De Santi ci illustrerà quella che è stata la politica energetica europea negli ultimi anni, che è stata scandita da vari momenti, che sono stati un vivio se vogliamo. Dopodiché ci entreremo in maniera più approfondita in quella che è la sicurezza della politica energetica. Quindi a questo punto rilascerei la parola se vogliamo iniziare a parlare, qual è stata la politica europea e italiana negli scorsi anni sul livello energetico. Buonasera a tutti, innanzitutto grazie dell'invito, è anche un mio piacere personale perché è la prima volta che incontro il pubblico nella nuova veste di membro del Politecnico di Torino dopo aver accettato il limite del Rettore e aver lasciato la Commissione Europea dove ho svolto tutta la mia carriera e quindi con piacere diciamo che spenderò alcune parole per spiegare l'immane sforzo della comunità scientifica e di tutta l'Unione Europea per sviluppare una politica energetica di livello per tutta l'Europa perché questo è il problema. Ricordiamoci che l'energia specialmente era un tabù per quanto riguardava l'istituzione europea, era un asset talmente importante e talmente delicato che veniva lasciato totalmente nelle mani dei Paesi membri. Quindi aver iniziato una politica europea sull'energia è stato un guadagno ed è stato uno sforzo importante. La politica europea, io farò un breve riassunto ovviamente delle caratteristiche principali di come si è sviluppata negli ultimi vent'anni per poi passare la parola al collega Ettore che invece andrà più sul discorso della sicurezza perché è chiaro che avessimo fatto questo incontro due mesi fa avremmo potuto parlare solo esclusivamente appunto di questa politica energetica europea che significa la decarbonizzazione del sistema energetico. Oggi come oggi è chiaro che gli eventi geopolitici comportano un'attenzione chiaramente assoluta su quello che è l'aspetto della sicurezza che chiaramente è un aspetto, è una parte della politica energetica europea ma oggi come oggi per l'interesse immediato del cittadino diventa preponderante, su questo è evidente. Quindi cercherò di sintetizzare quelle che sono state le evoluzioni principali per quanto riguarda la polis europea sull'energia e quindi passerò, ripeto, dopo ci soffermeremo sulla parte della sicurezza. Quindi qui vedete semplicemente tutto il percorso che la polis europea ha fatto e come vedete la politica europea per l'energia è relativamente giovane, si inizia verso la fine degli anni del secolo scorso, si comincia a parlare quindi di una trasformazione del sistema energetico basato a quel tempo su combustibili fossili a introdurre il discorso degli innovabili, dei biocombustibili, cosa che è stato fatto con grande sforzo e anche con alcuni errori perché questi primi passi della Commissione europea non sono stati accompagnati sempre da uno studio scientifico approfondito, quindi si sono messi dei target, degli obiettivi che poi si sono rivelati non proprio sostenibili. Questo è stato un lesson learned che è stato poi recepito dalle autorità europee e quindi si è sviluppato sempre di più un atteggiamento molto prudente e molto conservativo. Qui però io preferirei per non essere lungo trattenermi e soffermarmi solo su quegli step che voi vedete sottrinati in giallo perché sono quelli più vicini a noi, più significativi. Si parte dall'evento di Parigi nel 2015 la COP21 significa il vero inizio della politica europea per l'energia sostenibile perché l'ONU presenta l'agenda 2030 che è corrispondente a quel cerchietto che immagino molti di voi conoscono su tutti i Sustainable Development Goals che sono 17 obiettivi che sostanzialmente significa che lo sviluppo della società deve essere analizzato a 360 gradi non si può più fare la politica dell'acqua, la politica dell'energia, la politica dell'equità sociale le politiche dell'industria separatamente. Dobbiamo sempre in ogni momento capire le interlinkage quindi tutte le connessioni fra le diverse politiche e questo è stato un cambiamento epocale perché voi potete immaginare qualunque direttiva, qualunque decisione, qualunque proposta la Commissione prima che venga messa adesso deve andare a avvaliare tutti gli effetti negativi e positivi perché ci sono anche effetti negativi su diverse politiche quindi se io voglio fare una nuova politica come adesso sulla politica agraria io devo andare a considerare quali sono gli effetti non solo sull'agricoltura ma sul food, sull'energia, sull'acqua, sull'ambiente, sull'equità civica quindi questo è uno sforzo enorme perché significa sviluppare degli algoritmi e dei modelli che vanno a calcolare ex ante tutti i vari impatti che non è facile e poi vanno verificati quindi la conferenza di Parigi ha questo merito che inizia un cammino nuovo per la nostra società per l'Europa e che considera per quanto riguarda l'energia non solo i cambiamenti climatici come riduzione delle emissioni ma anche l'adattamento fino a Parigi la climate change adaptation non era praticamente una politica europea si rimandava ai paesi membri ma non si dava nessun tipo di guide linee quindi Parigi è veramente il milestone della nuova Europa per quanto riguarda non solo l'energia ma tutto il sostegno, tutto lo sviluppo sostenibile quindi che cosa succede? Vedete che subito dopo l'Europa recepisce il messaggio di Parigi e inizia una reflection paper quindi dice dobbiamo sviluppare una strategia a lungo termine e a medio termine quindi si comincia a parlare di strategia 2050 e 2030 questo nel 2018, nel 2016 perché? Perché se vogliamo arrivare veramente al target finale di una neutralizzazione cioè di non avere emissioni più di quello che la terra può assorbire e quindi avere un climate neutral nel 2050 dobbiamo mettere in atto tutta una serie di cambiamenti che non erano nemmeno stati concepiti quindi si inizia un reflection paper nel 2018 e nel 2019 e si arriva al secondo quadratino giallo che è l'European Green Deal ora poi mi ci soffermirò quindi qui dico semplicemente l'European Green Deal è veramente il momento in cui l'Europa prende posizione e dice da qui in avanti la politica dello sviluppo sostenibile è dettata dalla gente a delle Green Deal che le possiamo tradurre come una sfida verde un patto verde, chiamiamolo come ti pare ma è veramente l'emblema della nuova commissione la nuova commissione inizia nel 2019 e il vice presidente Timmerman viene messa a capo di questa strategia cosa vuol dire? segue immediatamente dopo e ora andremo a vedere la prima legge sul climate law quindi inizia a dire va bene adesso quello che era la strategia indicata dai reflection paper reflection paper non danno un mandatorio dicono solo dobbiamo arrivare lì ma non era vincolante per nessun paese il primo vincolo arriva con la climate law del 2020 che dice adesso qualunque paese europeo deve arrivare nel 2030 ad avere una riduzione del 55% come lo decidono loro perché l'Europa non è un'unione politica quindi lascio la libertà alla Francia di sviluppare la propria politica energetica col nucleare all'Italia col fotovoltaico all'Aosia pure ma tutte e due devono arrivare al 55% quindi diventa vincolante e arrivare al 2050 ripeto avere una clima neutrale un climate change neutrale allora ecco che gli ultimi due che ora andremo a vedere sono il 5th for 55 cioè come arrivo al target fissato dalla legge sul clima quindi io devo spiegare come fare quali sono le misure in concreto e l'ultimo è quello del Repower EU che è un rinforzo del 5th for 55 perché della guerra sull'Ucraina e quindi lì poi Ettore spiegherà che cosa vuol dire la diversificazione del gas tutto e quello quindi a questo punto ecco quindi ho detto Parigi Parigi è ripeto il momento in cui tutto il mondo accetta ci sono 196 paesi che accettano questo commitment cosa che non era successo a Chiotto vi ricordate Chiotto è stato un fallimento perché? perché era stato un'imposizione si era detto dall'alto in basso voi dovete fare questo tipo di percorso virtuoso solo i paesi ricchi non i paesi in via di sviluppo e quindi naturalmente si era creata una concorrenza sleale che non poteva coesistere quindi si passa invece a un bottom up quindi a un agreement che viene spontaneamente portato avanti dal paese ma non è vincolante di nuovo è un agreement non è un vincolo legislativo quindi questa è la differenza fra Parigi però viene portato avanti questo tipo di approccio che viene ratificato da tutti i paesi questo è stato l'inizio dell'Europa ricordiamoci che l'Europa conta per uno perché l'Europa è l'unico continente che si è portato avanti con una voce sola all'unisolo di tutti i paesi quindi non va l'Italia va l'Europa ecco questo è ripeto il Green Day il Green Day traduce tutto quello che ho detto in una politica come vedete non so per chi di voi è abituato a lavorare con le politiche a commissione ma questa è stata una rivoluzione perché come vedete il Green Day significa tutte queste politiche che prima erano diciamo emanate implementate valutate in maniera separata c'è la policy dell'energia l'energia è una sola politica clean affordable e secure quindi la policy della commissione è molto chiara l'energia deve essere a tutto tondo quello che vogliamo sostenibile lo stesso il climate action quindi c'è l'impegno come ho detto alla neutralizzazione ma poi ci sono altre cose c'è il trasporto c'è tutta la politica agraria farm to fork farm to fork è una rivoluzione perché dice tutta la catena alimentare agri food deve essere valutata nel suo insieme pensate che all'interno c'è l'agricoltura l'agricoltura sono solo la cosiddetta la politica agraria comune sono 54 bilioni di euro all'anno distribuiti bene questa politica dell'agricoltura non viene gestita dalla DG agricoltura l'irresponsabilità del fanto fork e della DG santé della salute che gestisce molti meno soldi ma per dire che alla fine quello che interessa al cittadino è avere una filiera che porti alla creazione di un sistema del food sostenibile sano affordable quindi che non lasci indietro soprattutto i gruppi di persone più vulnerabili ecco poi c'è tutto il problema degli ecosistemi della biodiversità quindi e al centro cosa si mette? guardate SDG di nuovo si mette Parigi e si mette l'Earth Observation perché si dice tutte queste politiche devono diventare moderne devono essere digitalizzate come le digitalizzo usando gli strumenti che la tecnologia adesso mi mante a disposizione quindi questa è una rivoluzione copernicana per i paesi membri per la commissione per dire da qui in avanti qualunque policy che io metta in atto devo andare ad analizzare su tutti i fronti il fronte energetico il fronte ambientale il fronte sociale il fronte legale il fronte diciamo sì economico quindi questo è importante andiamo avanti arriviamo al FIFO 55 quindi definito il target di arrivare a meno 55% nel 2030 con le commissione del greenhouse gases e neutral quindi emettere quanto io posso assorbire è chiaro che io devo capire come ci arrivo allora nel 2000 e questo attenzione questo è stato il contributo che la commissione europea quindi l'unione europea ha portato alla coppia 26 di Glasgow che se vi ricordate è stata fatta a novembre dell'anno scorso ed è stata da molti giornali detta che era stato un mezzo fiasco ma il fiasco dipende come si misurano le cose questa era una coppia più tecnica perché doveva andare a definire quale metodologie si possono utilizzare per implementare Parigi perché si fanno i proclami ma poi quando io devo andare a mettere e verificarli che metodologie uso ecco la coppia 26 è stata importante perché l'unione europea ha portato il nuovo target che era 40% come vedete quanto si è passato dal 40 al 55% questo è un abisso non so neanche se ci riusciamo ma questo è il target allora per fare questo vedete si deve aumentare la penetrazione delle rinnovabili si deve aumentare significatamente l'energy efficiency l'energy efficiency in tutti i settori trasporto buildings industria quindi industria deve diventare circolare queste sono trasformazioni epocali che costano al cittadino costano all'industria perché un'industria circolare significa andare a stravolgere tutto quello che è il processo lineare nei secoli quindi andare a riutilizzare le risorse andare a rivalutizzare il waste quindi è tutto un disaccoppiamento fra il progresso economico e diciamo anche industriale da quello che è l'uso delle risorse poi ci sono tutta una serie di altri target che neanche leggo cioè nuovi fuels per abbassare il CO2 nuovi fuel delle auto quindi il CO2 delle auto ora uscirà l'Euro 7 che ve lo dico qualunque tecnologia che usate diesel benzina è la stessa cosa quindi non è vero che il diesel è la stessa identica cosa si comincia a fare dei nuovi fuel sul maritime e sulla vie che erano completamente esautorati dal precedente accordo di Parigi quindi c'è un programma molto stringente che la commissione europea adesso impone ai paesi membri quindi sto volando per dire che la policy dell'Unione Europea vuole veramente generare un'energia che sia sostenibile sostenibile in tutti i lati e saliva quindi al discorso della sicurezza che chiaramente è una componente della sostenibilità perché se io devo avere una fonte di energia che non inquina che è equa ma che è precaria perché non riesco a garantire il supplemento o il supply quindi la fornitura di questa fonte è una cosa che non è sostenibile quindi si sviluppa tutta una serie di procedure di regolazione del mercato del gas di solidarietà per cui una parte dell'elettricità e una parte del gas devono essere portate da un paese membro all'altro e si arriva alla fine come vedete a Ripava EU Ripava EU è l'ultima comunicazione della commissione fatta dopo la crisi dell'Ucraina e qui si comincia ad entrare nel problema della sicurezza perché innanzitutto si dice che il target è molto semplice la commissione europea vuole che l'Europa diventi indipendente dal gas russo entro il 2030 non dal gas da tutti i combustibili fossili entro il 2030 e si dice anche in maniera molto ambiziosa che entro quest'anno due terzi si devono raggiungere due terzi quindi sono obiettivi molto importanti senza contare il fatto poi che si deve adoperare tutta una serie di manovre finanziarie per permettere degli aiuti avete visto la defiscalizzazione che abbiamo avuto sulle accise tutte cose permesse dalla commissione europea in derogo al patto di stabilità quindi vi è una prima reazione immediata per l'emergenza e qui vedete cosa significa il problema dell'emergenza qui più di tutto diversificare le fonti di approvvigionamento del gas e questo avete visto il nostro primo ministro si è mossa è andato a fare i vari contratti a destra e manca perché questo la commissione europea lo voleva due significa avere più scorte quindi aumentare lo storage perché lo storage già di suo ha un terzo di potenzialità per il nostro riscaldamento quindi avere le risorse al pieno al 90% già è un grosso passo in avanti poi cominciare a considerare anche la possibilità di miscelare sul gas degli altri tipo il metano il biometano o l'idrogeno verde quindi si comincia a parlare sempre di più dell'economia idrogena attenzione per l'idrogeno a mio avviso diventerà un elemento chiave in futuro non solo per il trasporto ma anche proprio per i processi di energia e di combustione quindi come vedete esistono delle misure per l'emergenza e misure invece più strutturali quindi si accelera la penetrazione delle rinnovabili si va a incentivare ripeto la produzione di elettrificazione del trasporto e anche dell'idrogeno quindi si va a cercare di trasferire il più possibile e accelerare come con incentivi economici e alla fine il trasferimento la trasformazione dell'industria questo è il grosso passo avere un'industria che più possibile diventi circolare un'industria che diventa appunto virtuosa e utilizza delle digitalizzazioni perché il problema sarà avere un'innovazione nel processo produttivo eccetera eccetera quindi per concludere questo prima di passare a paroletto volevo far vedere questo è circa l'andamento dell'energia in Europa e in Italia così come si è sviluppato negli ultimi decenni si vede benissimo che per quanto riguarda l'Europa l'energia ha un piccolo contributo da parte basso del carbone poi la parte blu scura è tutta la parte di olio e quindi sostanzialmente è il trasporto poi vi è la parte più chiara che è il gas poi ci sono la parte di rinnovabili il verde grosso è la parte di elettrico e sopra c'è il riscaldamento riscaldamento o uso diciamo delle biomasse come vedete l'andamento europeo non è poi così tanto distante da quello italiano si nota un calo ovviamente del consumo totale di energia nel periodo del crisi dopo il 2008 fino al 2010 poi un leggero recupero e di nuovo un calo negli ultimi due anni dovuto al covid e dovuto alla crisi quindi sostanzialmente questo fa vedere come l'elettrificazione che di cui poi dentro ci parlerà ha conto già lì per un 20-25% dei consumi di energia e questa elettrificazione come viene prodotta e qui è quello che mi premeva far vedere perché lì entra il discorso del gas cioè mentre in Europa vi è una grossa componente nucleare e si vede perché è la componente grigia che ha un'incidenza importante la parte gas che di nuovo è il celeste chiaro è una parte importante ma non quanto in Italia quindi in Italia come si vede sulla destra tutta la componente che non può essere prodotta dal nucleare viene compensata con il gas ecco perché noi siamo molto scoperti adesso sul gas russo perché è fatto ridotto notevolmente nel corso degli ultimi anni la produzione del biocarbone e anche di olio perché erano più cari più inquinanti quindi erano già stati decisi un phase out dell'olio e del carbone si è puntato sul gas uno perché costava meno l'altro perché è molto meno inquinante rispetto agli oli combustibili in attesa del rinnovabile perché i rinnovabili in Italia sono cresciuti parecchie ma le rinnovabili hanno questo problema qui se voi andate a vedere il carico su in alto la linea in alto è il carico che di energia che viene distribuito lungo un giorno questo è un giorno del 5 aprile quindi pochi giorni fa e come si vede vi è una contribuzione e un apporto da parte dei rinnovabili che sono che sono quelle in basso e quindi come si vede c'è il fotovoltaico quindi il solare è quello giallo c'è il eolico che è questo qui sono tornato indietro no indietro si riesce allora indietro deve essere adesso sì quindi solo per far vedere che nel consumo generale e nella necessità di energia vi è un gap quindi rinnovabili quando si parla di rinnovabili al momento attuale dobbiamo considerare che vi è sempre un gap soprattutto durante le ore notturne perché manca chiaramente il solare e a volte il vento c'è a volte non c'è quindi questo ad esempio durante una settimana si vede che il vento l'eolico che è quello diciamo rosso bordeaux esiste poco nei primi giorni o è un po' di più durante gli ultimi tre giorni della settimana quindi vi è un andamento un contributo da parte dell'erogia eolica che è importante ma che non è costante quindi il problema che poi si ripete a livello annuale il problema delle rinnovabili come sappiamo tutti è che non è un'energia costante come quella del gas che uno brucia o il nucleare che uno utilizza e che ha diciamo il plateau sul quale può innestare le rinnovabili su questo andamento qui è quello che ora ci porta a questo mio ultimo slide a parlare della dipendenza cioè quando parliamo di dipendenza energetica quindi di sicurezza e questo è chiaro si vede bene che va in contrasto con il discorso che dicevo prima perché tutte le fonti energetiche quindi sia olio combustibile sia gas sia carbone l'Italia importa quasi la totalità si vede che importa il 90% di carbone 90% più o meno di gas 90% più o meno di oli mentre è chiaro che i rinnovabili sono quasi del tutto fabbricati in casa diciamo così quindi è chiaro se uno vuole sviluppare un sistema energetico il più indipendente possibile i rinnovabili sono una soluzione è evidente e infatti vedete che l'Italia dipende al 75% dall'importa di energia dall'estero questo è il problema fondamentale quindi da una parte i rinnovabili hanno questa caratteristica di alternanza quindi non è una sostanza una fonte costante dall'altra però è una fonte che ti permette di avere un'indipendenza energetica e quindi concludo dicendo che la Commissione Europea quello che vuole fare è che in futuro noi dobbiamo trovare la soluzione per emanciparsi dal discorso del gas e comunque dei fossili della Russia questo è vero ma non dobbiamo però buttare l'urti che tutto quello che abbiamo fatto finora cioè questo percorso virtuoso che ci porta a far sì che nel 2050 avremo un sistema sostenibile cioè è inutile che io ora pensi di rimettere a funzione tutti i sistemi di produzione carbone sporco piuttosto che oli lo posso fare come soluzione tampone ma queste sono cose che poi ci dovremo trovare in futuro di nuovo quindi la Commissione quello che vuole fare è abbinare le due cose incentivare tutto quello che è green tutto quello che è ripeto sostenibile a un'esigenza chiaramente di diversificazione come appunto Ettore ci farà vedere di dipendenza energetica che non possiamo dimenticare ma l'unica soluzione è avere una soluzione globale una soluzione intelligente a 360 gradi che abbine le due cose altrimenti le nostre future generazioni si potrebbero anche trovare in una situazione peggiore dell'attuale e questo non lo vogliamo quindi noi vogliamo sì reagire sì renderci indipendente ma senza ripeto dimenticare che il percorso assolutamente faticoso che abbiamo iniziato convertendo tutto il nostro sistema di produzione la manufatturiera tutto lo stile di vita le città questo deve continuare e continuerà andando avanti a copiare questi due questi tre lati della sostenibilità che esistono sempre quindi sicurezza approfondimento sostenibilità ambientale sostenibilità sociale e certamente sostenibilità anche economica ecco io mi fermerei qui perché penso che poi di sua parte sicurezza sicuramente grazie mille anzi interessantissimi grafici sull'eolico veramente non sapevo tra l'altro che ci fossero degli andamenti dovuti alla settimana che cambiassero nel corso della settimana abbiamo visto quindi tutto il discorso legato alla sostenibilità ambientale come si è innescato questo processo virtuoso che punta alla neutralità climatica se possibile abbiamo visto appunto che c'è l'altra faccia della medaglia che è la sicurezza energetica tutti quanti siamo diventati familiari perché una mattina ci siamo svegliati e oh mio dio la sicurezza energetica perché non ci abbiamo pensato prima quindi come siamo arrivati a questo punto grazie innanzitutto è un piacere un privilegio essere qua questa sera grazie a Giovanni per l'introduzione grazie alla nostra moderatrice io proverò a raccontare qualche cosa su una dimensione dell'energia che è quella della sicurezza e quindi la domanda che mi pongo e che pongo a tutti noi è siamo sicuri dal punto di vista energetico e vedete pensando un po' alle cose che stanno succedendo alla sciagurata questione della guerra dell'Ucraina e all'aspetto dell'approvvigionamento del gas ecco per fare questo discorso parterei ricordando a tutti noi qual è il viaggio che fa l'energia è successo abbiamo perso abbiamo perso la presentazione eccoci di nuovo qua ecco e quindi partirei nel fare questa analisi dicevo dal viaggio dell'energia abbiamo da un lato a sinistra il fabbisogno che sono le fonti energetiche primarie possono essere rinnovabili o non rinnovabili dal carbone al gas al greggio all'energia nucleare quelle rinnovabili che conosciamo soare eolico ma non solo dall'altra parte a destra in verde abbiamo gli usi finali che sono i servizi energetici che ci servono nella vita di tutti i giorni ci sono quelli residenziali quindi dobbiamo far da mangiare dobbiamo scaldare illuminare le nostre case c'è un settore commerciale c'è il settore della produzione industriale che ha bisogno di calore di refrigerazione e così via c'è il settore dei trasporti per la mobilità ecco in mezzo al fabbisogno che sono le fonti e agli usi finali che sono i servizi ci sono sostanzialmente le commodity allora il fabbisogno sono le commodity primarie e negli usi finali ci sono sia commodity primarie che secondarie se io utilizzo il gas naturale lo posso immediatamente portare all'uso finale utilizzarlo nel boiler di casa mia per scaldare l'acqua oppure lo posso trasformare in una centrale termoelettrica e produrre energia elettrica per illuminare casa mia quindi il percorso dell'energia è sostanzialmente questo fonti primarie trasformazione commodity secondaria oppure fonte primaria commodity primaria direttamente utilizzata per i consumi finali nel fare questo viaggio l'energia viene trasportata in modi diversi ci sono corridoi cosiddetti open sea e cosiddetti captive quindi ho una pipeline un oleodotto un gasdotto oppure ho delle navi metaniere o degli oil tanker che portano queste commodity sul mare il tema della sicurezza qual è? che per essere sicuri noi dobbiamo avere le fonti primarie e in un paese come ha fatto vedere Giovanni un attimo fa che dipende per il 75% per queste fonti primarie da altri paesi dall'estero il problema è assolutamente rilevante ed è il primo tema sulla sicurezza per darvi due numeri di cosa sia l'energia nel mondo dal punto di vista dimensionale potete vedere che il fabbisogno mondiale è 600 exajoule grosso modo che corrisponde a 10 volte il fabbisogno dell'Unione Europea quindi l'Unione Europea è energeticamente un decimo del mondo che a sua volta è 10 volte il fabbisogno nazionale che se volete vederlo come consumo medio annuale di un'auto è 21 milioni di volte e il fabbisogno annuale di un anno corrisponde più o meno a tre volte il consumo di energia elettrica annuale media di una famiglia italiana e questo così dà un po' un rapporto così un'idea dei rapporti dimensionali dell'energia per le varie applicazioni sotto ci sono i rapporti di forza o meglio di energia nel mondo e si vede chi consuma l'energia del mondo e qui incominciamo ad approcciare l'aspetto geopolitico tutta l'energia del mondo corrisponde a 5 volte quello che consuma da sola la Cina quindi la Cina è un quinto dell'energia del mondo qui stiamo parlando di energia per gli usi finali che a sua volta è una volta il 30% in più degli Stati Uniti che è il 60% più dei paesi europei che è il 70% più dell'India che è 1,8 volte il consumo della Russia se voi guardate questi pallini che sono proporzionali ai consumi vedete una cosa estremamente interessante la Cina ha un miliardo e mezzo di abitanti gli Stati Uniti non lo so 350 milioni l'Europa 300 milioni numeri molto così approssimati l'India ha un miliardo e mezzo anche lei più o meno di abitanti li avrà a breve allora vedete come non ci sia un'allocazione come dire distribuita equamente tra i paesi del mondo ci sono paesi che consumano più energia e paesi che ne consumano meno quindi c'è un'allocazione come dire unfair che porta tensioni di carattere geopolitico l'energia è una risorsa scarsa e bisogna allocarla per allocarla ci sono due metodi quello più bello che è il mercato quello meno bello che è la guerra andiamo a guardare che cosa capita nel nostro paese quindi quanta e quale energia ci serve nel nostro paese a sinistra di nuovo le fonti i fabbisogni a destra gli usi finali quello che vedete in giallo è il gas che noi utilizziamo in Italia che corrisponde sostanzialmente al 42% del nostro fabbisogno poi abbiamo tanto greggio e prodotti petroliferi abbiamo una piccola parte di energia elettrica che importiamo e poi abbiamo l'altro dove ci sono i rinnovabili se guardiamo gli usi finali il gas pesa per il 30% abbiamo un 22% di energia elettrica che viene impiegata come dicevamo prima come commodity secondaria trasformando queste commodity primarie e quindi il gas per noi è importante sia dal punto di vista dell'approvvigionamento sia dal punto di vista degli usi finali tenete presente che una parte di questo gas come vediamo fra un attimo viene trasformato in energia elettrica quindi il gas ci serve per cuocere la pasta ma ci serve anche per accendere la luce quando arriviamo a casa questo doppio impatto che vediamo fra un momento ecco dal punto di vista dell'energia fossile da dove la prendiamo da chi siamo dipendenti di nuovo qua vedete l'importazione di gas naturale e l'importazione di greggio da diversi paesi se voi guardate la percentuale di gas che importiamo dalla Russia perché di questo stiamo anche parlando per la situazione in cui ci troviamo è circa il 43% l'Algeria ha un'altra bella fetta la Norvegia ha una fetta anch'essa rilevante ma diciamo la fetta più grande è quella della Russia la situazione dal punto di vista del greggio è sensibilmente diversa perché vedete che la Russia gioca per un 11% quindi è più diversificata riassumendo il bisogno di gas per l'Italia nel 2020 era qualcosa dell'ordine di 70 miliardi di metri cubi il 93% come sottolineava Giovanni è di importazione il 43% arriva dalla Russia per quanto riguarda invece il greggio nel 2020 sostanzialmente sostanzialmente abbiamo importato 56 milioni di tonnellate il 90% è di importazione l'11% viene dalla Russia dobbiamo dire che la sicurezza rispetto al greggio è meno drammatica perché c'è un gran numero di possibili fornitori per il gas la situazione è un po' più critica se guardiamo il gas in Italia possiamo vedere la situazione in termini di approvvigionamento dall'esterno se abbiamo un fabbisogno dei 71 miliardi di metri cubi che dicevamo ne prendiamo circa il 45% dalla Russia e di questa una parte importante che vedete che è la freccia in basso è la parte di gas che utilizziamo per produrre energia elettrica circa il 50% della generazione di energia elettrica nazionale è fatta con il gas quindi quello che dicevamo il gas è importante per accendere la luce non solo per avere l'acqua calda e l'altra parte va direttamente agli usi finali per quanto riguarda l'analisi del problema energetico si classifica sostanzialmente con quello che la World Energy Council aveva chiamato il trilemma energetico gli attributi che vogliamo avere per l'energia sono la sicurezza che è quello di cui parliamo questa sera quindi la dimensione della sicurezza energetica e la capacità di assicurare la disponibilità di energia nelle sue diverse forme e per i suoi diversi impieghi nelle quantità richieste nei luoghi in cui essere richiesta nel breve medio e lungo periodo c'è poi il tema della sostenibilità ambientale cioè bisogna che noi soddisfiamo gli usi finali dell'energia senza compromettere i beni primari l'aria che respiriamo il cibo che mangiamo l'ambiente nel quale viviamo e il terzo è l'equità che si riallaccia un po' al discorso dell'India che sono tanti e consumano poco allora ci vuole una certa possibilità di garantire a tutta la popolazione del mondo l'accesso all'energia che serve che ha una declinazione infrastrutturale ci vogliono infrastrutture energetiche e anche economica devono potersi permettere di pagare il conto a fine mese per le commodite energetiche che utilizzano ecco tenete presente che negli ultimi anni come diceva anche Giovanni la sostenibilità è stata al centro decarbonizzare climate change pollution era la parola chiave i tragici eventi che stiamo vivendo in questo periodo hanno un po' non dico ribaltato le priorità ma dato un grande dato una grande attenzione al problema della sicurezza che è una cosa se volete più immediata se io non ho le risorse energetiche che vedevamo prima sto al freddo al buio adesso l'impatto ambientale ha una dinamica un tantino più di lungo periodo come la definiamo quindi la sicurezza energetica che cos'è la dobbiamo definire con riferimento a due fronti quello esterno e quello interno il fronte esterno è il paese in cui ce l'ha commotti o il gas in Libia o il gas in Norvegia poi ho un corridoio o il Green Stream il gasdotto che dalla Norvegia che dalla Libia arriva a Gela e porta il gas a Gela che è l'entry point nazionale oppure ho il Transmed che da Cabbon dalla Tunisia porta il gas a Mazzara del Vallo oppure ho una nave una petroliera che parte dall'Iraq e arriva al posto di Trieste oppure ho una nave metaniera che prende l'LNG il gas naturale liquefatto dal Qatar e lo porta a Panigaglia dove abbiamo il rigassificatore oppure a Rubino quindi questa è la prima dimensione esterna devo prenderla commodity dove è perché sono dipendente per il 70% dall'estero e portarla nel mio paese quando poi arriva nel mio paese la posso trasformare il greggio diventa benzina diventa gasolio diventa quello che diventa come commodity per gli usi finali diventa energia elettrica in una centrale elettrica poi la devo trasportare all'interno del paese e distribuirla facendo arrivare gli usi finali quindi il paradigma della sicurezza è fronte esterno commodity corridoio fino all'entry point poi dall'entry point infrastruttura nazionale la rete elettrica deve essere tenuta in condizioni di non avere un blackout se no sul fronte interno perdo la sicurezza e questo è un po' il paradigma della sicurezza in generale quindi capite guardando al fronte esterno come gli aspetti geopolitici la stabilità l'affidabilità dei paesi da cui prendiamo le commodity energetiche sia estremamente importante se vogliamo parlare della sicurezza un po' a tutto tondo elencare i componenti fondamentali e abbiamo quella geopolitica che abbiamo appena detto cioè bisogna riuscire a approvvigionarsi da paesi il più possibile stabili quindi i paesi e i corridoi che attraversano determinati paesi devono essere il più possibile sicuri c'è l'aspetto tecnologico quindi bisogna che i componenti riescano a sopravvivere a guasti c'è l'aspetto di mercato non ci dilunghiamo ma sapete come la penetrazione di rinnovabili nel mercato elettrico italiano che è un'ottima cosa per la sostenibilità crea i problemi di sicurezza perché una grande percentuale di rinnovabili è difficilmente gestibile dalla rete perché ci sono meccanismi di mercato che buttano fuori mercato gli impianti termoelettrici tradizionali più costosi che sono necessari a tenere in piedi il sistema elettrico ultimo è quello ambientale non avete probabilmente idea di come i cambiamenti climatici impattino sulla sicurezza dell'infrastruttura quindi un certo sistema elettrico che era stato dimensionato per una certa velocità del vento il cambiamento climatico lo vediamo nel nostro paese aumenta la velocità creando insicurezza quindi riassumendo quali sono le minacce alla sicurezza dell'energia allora la prima minaccia che è quella che noi discutiamo questa sera è quella geopolitica in cui tensioni di natura politica o conflitti ed è il caso che stiamo sfortunatamente vivendo in questi giorni possono causare sospensione dei flussi energetici o danneggiare le infrastrutture l'esempio non attuale ma quello tradizionale che si cita quello del 2009 in cui la crisi tra la Russia e l'Ucraina ha comportato la sospensione completa della fornitura di gas naturale attraverso l'Ucraina per 13 giorni 7-19 gennaio un impatto notevole le altre sono quelle accidentali ci possono essere dei guasti sono quelle naturali o l'uragano o l'alluvione sono quelle sistemiche quello dicevamo prima un meccanismo di mercato che favorendo una certa fonte può ingenerare insicurezza sull'infrastruttura e sono quelle intenzionali gli attacchi terroristici voi non avete idea di quante infrastrutture energetiche vengano prese di mira per ragioni varie dai terroristi ecco ci occupiamo in termini di sicurezza dell'aspetto geopolitico che è quello che un po' è alla base della nostra chiacchierata di questa sera e vedete che c'è un indice che si chiama VGI World Governance Indicator pubblicato dalle Nazioni Unite che si basa su sostanzialmente sei voci voce responsabilità stabilità politica di assenza di violenza terrorismo efficacia del governo qualità della regolamentazione stato di diritto e controllo della corruzione sulla base di questi indicatori paese per paese si dà un punteggio al paese in termini della sua stabilità se volete della sicurezza di approvvigionarci da quel paese 100 è il massimo rischio questi paesi che vedete citati qua sono quelli da cui noi ci riforniamo e vedete che la Norvegia è un paese molto tranquillo 2.4 il più piccolo valore di rischio la Libia da cui pure ci riforniamo è dell'ordine di 100 il Venezuela è dell'ordine di 100 l'Iraq pure vedete che gli Stati Uniti sono 22 qualche cosa noi siamo 32 allora capite che scegliere il paese se è possibile da cui rifornirsi è un aspetto chiave per la stabilità potendo scegliere non sempre così è meglio rifornirsi dalla Norvegia che dalla Libia per ragioni di stabilità geopolitica e quindi di sicurezza vi ricordo due crisi energetiche importanti con l'impatto che hanno avuto la prima la guerra dello Yom Kippur io sono vecchio sufficienza per ricordarmi le targhe alterne io non so se ancora qualcuno si ricorda il fatto che c'era l'austerity e quindi si poteva usare una macchina diversa secondo dell'ultima cifra della targa era questa questa prima crisi del 1973 guerra Israele-Egitto quali sono state le conseguenze i paesi OPEC hanno aumentato il prezzo di acquisto del petrolio del 70% bloccando l'export verso Stati Uniti e Paesi Bassi c'era la famosa austerity di cui dicevamo e questo ha portato però un aspetto vuol dire nella disgrazia un aspetto positivo come la ricerca di nuove fonti di approvvigionamento si è andati verso il gas naturale prima eravamo molto focalizzati sull'oil e sull'energia nucleare è nata anche l'International Energy Agency per questa ragione la seconda crisi energetica di una certa lievevanza è quella del 79 con la rivoluzione iraniana che ha avuto come conseguenze la trastica riduzione della produzione dell'export di petrolio dall'Iran quindi ha spinto alla ricerca di nuovi giacimenti e di nuovo al potenziamento del gas ricerca di nuove fonti alternative e si incominciava a parlare delle rinnovabili e poi aspetti tipo tecnologico più efficienti con la considerazione della necessità di avere un processo di pianificazione più accorto per l'energia visto che siamo come dire in una guerra che coinvolge l'Ucraina ho provato a raccontare un po' la storia dal punto di vista energetico dell'importanza dell'Ucraina in questo discorso partiamo al 2006 braccio di ferro tra il governo ucraino e il governo russo con un aumento dei prezzi abbastanza rilevante del gas naturale una drastica riduzione degli approvvigionamenti provenienti dalla Russia durante la giornata del 2 gennaio il timore di una crisi energetica rientra perché è stato fatto poi un nuovo accordo russo-ucraino tre anni dopo 2009 interazione delle forniture di gas della Russia e l'Ucraina per 13 giorni l'abbiamo citato l'affidabilità della Russia come fornitore viene messa in discussione si pensa a nuove strade che non coinvolgono l'Ucraina pensate al Nord Stream direttamente Russia-Germania Nord Stream 2 quello che è stato bloccato a causa di questa guerra in questo momento è il Tark Stream da sud bypassare l'Ucraina come fattore di criticità e qui vedete quando dicevamo che la sicurezza dipende dalle fonti e dipende dai corridoi in questo caso la fonte è sempre la stessa la Russia il corridoio cambia passa a Nord o passa a Sud non passa più con il Broderut attraverso l'Ucraina 2014 c'è l'annessione della Russia della Repubblica di Crimea non viene riconosciuta dalla maggior parte dei paesi gli europei introducono sanzioni economiche e la Russia chiude il gasdotto South Stream attraverso la Bulgaria c'è il conflitto armato del Donetsk e del Lunask che è quello che sostanzialmente vediamo qui anche adesso arriviamo ai giorni nostri 2022 la Russia annette il Donetsk e l'Unask che si sono proclamati indipendenti invade il territorio ucraino c'è l'interruzione del nostro stream 2 che i tedeschi bloccano c'è l'aumento dei prezzi del gas del petrolio e c'è un timore per la nostra dipendenza dalla Russia e della relativa alla nostra possibilità e capacità di gestirla un'alternativa potrebbe essere quello dello shell gas americano perché sostanzialmente il gas dai russi lo perderemo lo vogliamo bloccare per ragioni legate alle sezioni e quindi l'aspetto alternativo è dire prendiamo lo shell gas dagli americani che ne hanno e ce lo vendono lo shell gas arriva non con un gasdotto come il Broderut che entra a Tarvisio come entri poi nazionale dalla Russia ma come gas naturale liquefatto GML questo è un processo un po' più complicato perché devo liquefarlo trasportarlo con la nave poi mettere un rigassificatore e collegarlo alla rete nazionale quindi costa di più il discorso di quanto costi di più è dubbio c'è chi dice tre volte qui in realtà ci sono alcuni dati più ottimistici che sostanzialmente dice che il gasdotto costa un terzo di più quindi aumentiamo del 30-40% il costo e questa la mettiamo lì come possibile soluzione anche in un'ottica di un'alleanza occidentale che si è venuta a creare e che compattamente vuole in qualche modo liberarsi dalla dipendenza russa adesso la domanda che tutti si pongono è ce la facciamo senza il gas russo che cosa possiamo fare e questo come dire si può discutere proviamo a dare qualche numero e qualche idea di qual è la situazione che andiamo ad affrontare vedete che ci sono le due stagioni quella invernale e quella estiva completamente diverse il consumo invernale di gas naturalmente è maggiore il consumo estivo è minore ma tipicamente io uso gli stoccaggi noi abbiamo 18-20 miliardi di metri cubi come valore di stoccaggio nazionale che dobbiamo riempire d'estate e utilizzare in inverno e togliendo il gas russo vedete che abbiamo in inverno una domanda di 42 miliardi di metri cubi e gli approvvigionamenti che ci rimangono sono dell'ordine di 25 vedete la bilancia non è molto bilanciata a nostro favore se guardate la situazione invece estiva abbiamo circa un 50 miliardi di domanda e un 27 di approvvigionamenti che cosa facciamo possiamo fare e come ci regoliamo in questa situazione allora abbiamo detto che la Russia pesa per il 43% del nostro importazione della nostra importazione quindi occorre fare due cose ridurre le dipendenze e diversificare gli approvvigionamenti questo è quello che si sta facendo voi l'avete letto su tutti i giornali allora la prima possibilità è aumentare la capacità di rigassificazione quindi io posso importare gas naturale liquefatto parlavamo adesso degli Stati Uniti aumento delle importazioni dal Qatar e così via e quindi questo prevede un incremento di 10 miliardi all'anno grosso modo trovare altri canali di importazione avete letto che il governo ha fatto un accordo per aumentare di poco meno di 10 miliardi di metri cubi l'importazione dall'Algeria sfruttare la produzione nazionale produrre nazionalmente è sempre difficile non siamo un paese che ha molti ostacoli a fare qualunque cosa però si pensa di poterlo aumentare di un paio di miliardi di metri cubi il raddoppio del TAP anche questo molto deprecato che potrebbe arrivare a 20 miliardi di metri cubi l'altro aspetto che questo è un po' paradossale però è necessario è quello dello stop al decommissioning delle centrali a carbone voi sapete che noi eravamo nel phasing out delle centrali a carbone adesso come dice qualcuno scherzando siamo passati dalla decarbonizzazione alla ricarbonizzazione perché in effetti dovendo produrre energia elettrica abbiamo visto quale fetta di energia elettrica nazionale è prodotta dal gas non avendo il gas sfrutta ancora il carbone in quei tre elementi del trilemma energetico che dicevamo security sustainability ed equity vedete che in questo caso privilegiamo la security contro la sustainability ci teniamo ancora un po' il carbone per avere sicurezza anche se meno sostenibile perché nel breve periodo non possiamo fare tanto di diverso assicuriamo il massimo livello di stoccaggio nella stagione estiva ecco se noi facciamo questa operazione i numeri più o meno tornano quindi possiamo alla fine riuscire non proprio tutto ma sostanzialmente a impattarla rispetto alla perdita del gas russo nel lungo termine l'idea è di investire in generazioni rinnovabili anche questo l'abbiamo detto l'elettrificazione degli usi finali e alcuni pensano di tornare al nucleare si può discutere se sia un'ozione oppure no e volevo farvi vedere qual è il gioco dell'energia allora se voi vedete per quanto riguarda il gas e il petrolio greggio abbiamo la Russia la quale fornisce all'Europa e all'Italia abbiamo messo le due dimensioni una certa quantità di gas o di olio naturale che corrisponde a 155 miliardi di metri cubi l'Europa paga 10 miliardi di euro e il valore è probabilmente sottostimato questo è un osservatorio dell'economia della complessità di università americana ci sono altri dati che danno questi numeri un po' più alti analogamente vedete noi prendiamo 30 miliardi di metri cubi e diamo 4 miliardi di euro ai russi una situazione analoga la vedete per quanto riguarda l'olio combustibile allora il tema delle sanzioni qual è? da un lato c'è un soggetto l'Italia l'Europa che ha bisogno di energia dall'altro c'è un soggetto che a fronte di questa energia prende dei soldi aumenta il suo prodotto interno lordo e quindi è un classico esempio di teoria dei giochi voi non so se avete visto quel film Beautiful Mind l'equilibrio di Nash in cui c'è un'interazione strategica tra i due giocatori perché se io non ti prendo l'energia sto al buio ma tu perdi il tuo introito che ti aumenta il pil se io non ti do l'energia tu stai al buio visto dall'altro giocatore però io perdo una quota rilevante del mio pil e quindi se volete vederlo in una vignetta è un po' questa c'è a sinistra l'Europa che vuole guardare la security of supply a destra la Russia che vuole la security of demand cioè vuole essere in grado di vendere la coperta è corta nel senso che se io la tiro dalla parte di fare un'azione politica che può essere ti metto le sanzioni oppure ti chiudo i rubinetti secondo che guardiamo l'Europa o la Russia mi rimane scoperta in un caso la parte legata ad avere soddisfatti i nostri consumi energetici dall'altro la parte relativa al fatto di avere soldi che incrementano il mio pil sapete come questo è importante per la come questo sia estremamente importante per il default russo quindi la ragione per cui in questa situazione di guerra l'unica cosa che non è stata bombardata e non è stata sabotata né da una parte né dall'altra del gasdotto e questo ha un certo se noi guardiamo la Germania che è ancora più dipendente da noi dal gas russo il 70% e questo corrisponde a un costo diceva la Bundesbank evitarlo di 180 miliardi quindi la ragione per cui il cancelliere tedesco è poco propenso alle sanzioni il presidente Zelensky non lo ha voluto a Chir risiede nell'analisi di questi questo punto io con questo ho concluso c'è tutto un aspetto relativo ai prezzi e l'aspetto relativo ai prezzi lo vediamo con queste niente vedete questo che dice avevo paura del buio dopo l'ultima bolletta ho paura della luce e non lo possiamo discutere in questo momento ma vedete come l'aspetto dei prezzi sia un altro riflesso che però rimandiamo a un'altra puntata io vi ringrazio per parlarvi insieme